al segno della Vergine, l'ora opposta, vicino a Nettuno, confusione nell'ambiente lavorativo ma anche nella coppia e in famiglia, perché voi non sapete nemmeno bene cosa desiderate, cosa volete e poi siete pervalosi in questa giornata, ve la prendete per qualsiasi cosa vi venga detta, per qualsiasi osservazione o alla minima critica, questo porta degli scontri. Marte nel segno dell'acquario porterà un po' di vivacità nella vostra vita di tutti i giorni. Andiamo alla bilancia.